E poi la gente per la strada li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. A 15 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo sono tornate a vivere le canzoni del Signor G grazie alla narrazione di Andrea Scanzi e alle voci di Siria, Giulio Casale e Paolo Benveniù una serata unica nel suo genere che ha fatto il tutto esaurito. Il Gaber Day è stato un omaggio al grande artista che ha saputo raccontare con brutale verità l'Italia di fine millennio anticipando da precursore qual era temi che sono tuttora di grande attualità. I padri miei, i padri che ci ho avuto io, in un'Italia un po' strana, non ha potuto fare a meno di sognare l'Africa orientale italiana, nei padri miei c'è un'aria che assomiglia alle foto dei vecchi persaglieri che mostrano a colori la loro dignità.